mariella sta facendo la genialata della vita cosa stai facendo mariella perché è una figata pazzesca solo di cui mi hanno messo i ganci invece di un balcone in camera sopra il letto dei geni quindi noi stiamo pagando un albergo profumatamente ovvero 25 dollari per la notte e tu dove dormi? io avevo detto che volevo dormire sulla maca quindi io non manca gatto di striscio il problema è che l'hanno messa sopra il letto quindi mi ha toccato spostare il letto buon latte sei comoda mariella è brutto